La cavalla corre senza i ferri dietro, 8 Pulisson, Roberto Destori Junior, 9 Platitude, Enrico Montagna, 10 Principe, Saovi, Marco Slavic, 11 Puzzle Font, Andrea Farolfi, il rapporto di scuderia fra i numeri 3 e 11, Poila e Puzzle Font. Partito in questo momento, parte piano Piozza Ols, perde terreno dietro di lei, Pallon Piz, lo scatto di Pellestrina e di Please Please Me, poi Pink Lady che parcheggia terza in corda, mentre di fuori c'è Principe, Saovi che sta anticipando Puzzle Font, le due vengono dalla seconda fila, retrocede quella di Farolfi, rimontata all'interno anche da Platitude. Intanto ha sfondato, Please Please Me, con Marco Volpato, 15 e 4 di frazione, cavalle in Luga Finindiana per quello che riguarda le prime posizioni, c'è Pellestrina dell'incalzo seguita da Pink Lady, poi lo scatto esterno di Puzzle Font che rompe gli indugi, non c'era posto dello steccato, allora Andrea Farolfi prova ad andare via dritto, intanto c'è stato il cambio al comando, Pellestrina scavalcato, Please Please Me, rimane a centro gruppo, Principe e Saovi scavalcato da Poila, addirittura di line 16 scarsi, cerca di andare di fuori anche Pink Lady, ma poi invece Pistorio ci ripense e rimane in corda, intanto i 600 di gara, con Pellestrina in spinta, ancora un 15 e 8 per la seconda piegata, adesso il vero rallentamento, o quantomeno provano ad andare in mano, Pellestrina e Puzzle Font, poi ancora una pariglia, scomposta però perché Principe e Saovi non riesce ad accompagnare Please Please Me, e rimane invece a fianco di Pink Lady al giro, un giro attorno all'1,2 e mezzo, forse 1,3, misure sempre assolutamente ufficiose, prova a venire via dal fondo, Pollonpitz che è rimasta davvero in fondo al drappello, lo fa in progressione assieme a Pulisson che sembra voler anticipare, il chilometro in 18,1, muove anche Platitude, gruppo che si ricompatta tantissimo, in vantaggio Pellestrina, con Please Please Me che sposta dalla sua sceva in quella di Puzzle Font, intanto sta passando Principe e Saovi, cerca di seguirla, Please Please Me che anticipa Puzzle Font, squalificato, Puzzle Font, che anticipa Platitude, ultima curva in 15,2, Principe e Saovi nettamente davanti agli altri, poi Please Please Me, mentre per il terzo posto, Pulisson e Pink Lady vanno in lotta con Pellestrina e sul traguardo, e forse Pulisson a mantenere anche perché Pink Lady era involontariamente, ovviamente, sottolineiamo, intralciata un po' nella progressione dal fatto che aveva Puzzle Font di Galoppo davanti a lei, arriva comunque da rivedere la vittoria larga di Principe e Saovi che si conferma, Marco Slavic in sediolo alla...